E' qualcuno però dei suoi compagni di squadra, guardate qui, è lì che gira intorno, sembra cercare qualcuno, beh guardate chi trova ad un certo punto, lui è grande appassionato di Tecvondo, Ibrello rattacca il colpo a Strasser, è uno scherzo però insomma Strasser lo guarda abbastanza basito, mettiamola così, poi Ibrello mi ci va verso Ronaldinho e con lui ha un atteggiamento un po' più affettuoso, ecco qui riapprezziamo il gesto, il gesto non so Strasser quanto lo può apprezzare, pochino direi. Dalla faccia direi.